Ma i francesi sono antipatici? Questa è una domanda che mi è stata fatta tante volte dalle persone con cui parlo della mia vita in Francia, soprattutto persone che sono in Italia ovviamente. E sì, è vero che i francesi hanno un po' questa fama, legata ovviamente a uno stereotipo, fama di avere la puzza sotto il naso e di essere poco simpatici. Ma volevo fare questo video per cercare di rispondere a questa domanda e quindi parlare com'è effettivamente, cosa c'è detto questo stereotipo e com'è effettivamente comunicare con dei francesi tutti i giorni. Allora, io personalmente ho notato due cose. La prima cosa è che i francesi sono molto cortesi in genere. Parlo di regole e dei consuetudini che riguardano proprio il modo di parlare, di esprimersi, di salutarsi e di rivolgersi alle persone sia sconosciute, soprattutto sconosciute, ma anche conosciute. E ad esempio quando si va nei negozi in Francia si dice assolutamente sempre buongiorno, buonasera, per favore, grazie, signora, signore. Si dà sempre del lei, del v in questo caso agli sconosciuti, non esiste che si dà del tu a qualcuno con cui non si è mai parlato. E ci sono anche delle formule che in italiano nemmeno esistono, cioè che sono molto articolate, come ad esempio bonne fin de journée, quindi buona fine giornata. E questi saluti vengono usati in maniera molto precisa a seconda dei momenti del giorno. Quindi c'è un'attenzione, diciamo, proprio a queste espressioni e frasi di cortesia, di politesse in francese. Questo è il primo aspetto che ho notato e questo primo aspetto ovviamente non depone a favore della tesi dell'antipatia, perché con tutta questa cortesia e questa gentilezza ci sentiamo comunque trattati bene e propensi a pensare che si tratti di un popolo aperto, simpatico e affabile e gentile. Però l'altra faccia di questa medaglia di cortesia, diciamo verbale, nella maniera di esprimersi, per me quella che io ho riscontrato sono le facce dei francesi, l'altra faccia della medaglia sono le facce dei francesi, perché queste facce sono spesso allibite, scocciate, sbuffanti e quindi viene da interpretare queste facce come antipatiche, che almeno a me da italiana viene da interpretare queste facce come antipatiche e come poco predisposte, diciamo, alla comunicazione e all'apertura con chi hanno davanti. Mi vengono in mente vari esempi di queste facce e di questo atteggiamento scocciato dei francesi, ma uno è piuttosto recente. Durante il secondo lockdown che c'è stato qui, credo fosse ottobre-novembre, erano stati chiusi molti negozi, cioè quasi tutti, a parte quelli di alimentari e le farmacie, ma era possibile ordinare online degli articoli dai negozi chiusi con il click and collect e recuperarli e a volte anche pagarli direttamente sul posto, nel negozio che quindi apriva proprio solo per consegnarti questa merce. Un giorno faccio questo ordine online con una libreria di quartiere, quartiere che per informazione non è per nulla chic o alto locato, però insomma una libreria di quartiere. Vado a recuperare due libri, suono, mi aprono e durante i pochi minuti in cui resto in questa libreria la commessa che mi ha fatta entrare fa delle facce scocciatissime, facce, occhiate, sbuffi, sbuffi, sbuffetti, occhiate così. Io resto lì, ovviamente aspetto i miei libri e li prendo, li pago e mentre torno a casa a piedi comincio a farmi tutte delle ipotesi astruse sul motivo per cui potesse essere così scocciata, irritata perché mi guardasse così male. Cerco delle ipotesi, la prima è forse avevo fatto un ordine da pochi soldi effettivamente, perché avevo preso un paio di libri in edizione economica tascabile, quindi magari le ha scocciato aprire il negozio diciamo per andare a cercare i libri eccetera per così poco. Può darsi. La seconda ipotesi era forse perché ho un accento straniero e ho già fatto un altro video in cui parlo del fatto che ad alcuni francesi dà fastidio sentire un accento straniero o comunque vedere la loro lingua maltrattata da uno straniero che anche se la parla bene ha un accento ovviamente. Questa era la seconda ipotesi. La terza ipotesi era forse non erano libri abbastanza intellettuali e questa è una libreria un po' non d'autore, come si dice, una libreria un po' indipendente, quindi magari con titoli più ricercati rispetto a quelli che avevo scelto io. Mi faccio tutte queste ipotesi e arrivo a casa dal mio compagno che è francese e gli racconto, gli dico, guarda mi hanno trattata proprio scocciatissimi nella libreria, ho fatto queste ipotesi, tu cosa ne pensi? E lui mi dice, guarda io vado sempre, spesso in questa libreria e effettivamente le commesse sono sempre scocciate, sbuffano e mi fanno delle occhiatacce ma non mi faccio tutte queste ipotesi, è solo un modo di fare e non è sicuramente perché sei straniera, non è sicuramente legato ai tuoi acquisti, è un modo di fare così e quindi non devi stare a farti troppe domande. Allora, detto questo, questo episodio, comunque a me è capitato tante volte di riscontrare queste facce scocciate in Francia e una risposta alla domanda se sono antipatici o no, effettivamente io non ce l'ho perché vuol dire essere antipatici fare queste facce, non lo so. Quello che però vorrei dire a chi si approccia alla vita in Francia o anche solo a chi ci viene in vacanza è che anche se fanno queste facce effettivamente non ce l'hanno con voi quindi state tranquilli, state sereni effettivamente è un modo di fare, può non risultare simpatico ma non ce l'hanno specificamente con voi non avete fatto niente di male, ok? quindi anche se sbuffano e fanno le occhiate questo era un video un po' diverso dal solito e spero che sia stato utile a chi si approccia alla vita in Francia ciao ciao